ecco paolo paolo un incontro con i grifoni e altri amici s andrea è un po che non ci si vede a antonio marius eccoli eccoli partenza per ovindoli ti mancavano un po di strilli eh mancavi eh ecco i ragazzi guarda Pierino salve Piero guarda che gruppo guarda che gruppo tutti presi dalla guida guarda che gruppo aviarino ecco questi nuovi ecco Gino torri chiapato tu scappi tu scappi paolo che cavolo sta facendo stanno girando giriamo tutti eccoli così si vedono tutti infatti lì solo potrebbe essere si vedono tutti ecco l'altro l'ho visto io no io stavo sì ovindoli aspettaci eccoli a montepidocchio a pidocchi eccola in fondo vindo lì eccoli eccoli quanti pidocchi su pollo pidocchio eccoli 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 paolo e l'importante è arrivare c'è il cenato prima c'erano i grifoni guarda che colori eccoci al monte pidocchio abbiamo riscazzato la giornata eh guarda che nebbia ha rialzato così no tutto no perché è giustettino era più largo era più grande Grazie a tutti